Ciao a tutti amici e colleghi fantalenatori, bentornati in un nuovo video. Oggi video consiglio di giornata per la sesta giornata, con la mia faccia barbuta per cambiare un po'. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi neanche un video. Lasciate un like e un commento per supportarci in questo nostro progetto e se ritenete che i nostri contenuti vi siano d'aiuto. In descrizione troverete tutti i link delle nostre pagine social, tra cui Instagram dove pubblichiamo ad ogni giornata contenuti che qua su YouTube non troverete, qualche chicca, facciamo i sondaggi, le top 11, top 11 ogni giornata, top 11, top 11 scommesse e bonus spazi particolari che stiamo pure azzeccando. Quindi mi raccomando seguite su Instagram, sempre in descrizione troverete il link per entrare a far parte del nostro gruppo Telegram, dove anche lì siamo molto attivi, la nostra community chiede consigli, dubbi di giornata, ballottaggi, ci scabbiano consigli, veramente molto interessante. Quindi entrate a fare parte e ricordate che anche io e canta risponderemo H24. Bene, banda alle ciance, la dovuta intro, partiamo dalla prima partita di questa sesta giornata di Serie A. Bene, le protagoniste, Spezia e Milan. Secondo me sarà una gara a senso unico a favore, ovviamente, dei rossoneri. Potrebbe finire con un 0-2, anche 0-3. Quindi schierabile Magnan per cercare il clean sheet. I bonus potrebbero arrivare dai piedi di Ternandez, che sì, Diaz, Rebic. Se invece cercate dei voti alti, il 6 e mezzo, per intenderci, andrei a schierare anche Tomori, Tonali e Sallemakers. Per quanto riguarda lo Spezia, ragazzi, c'è poco da dire. Forse andrei a schierare Bastoni, Maggiore e Giasi, ma solo in leghe numerose, se non avete altre soluzioni. Andiamo avanti, passiamo subito a Inter-Atalanta. Una gara, secondo me, da pochi gol. L'Inter segna molto, l'Atalanta subisce sempre qualcosa, non segna tantissimo. Quindi, secondo me, potrebbe finire con un 1-0, 2-0 per quanto riguarda a favore dell'Inter. Quindi, prima di tutto, ci saranno duelli interessanti in questa partita su ambo le fasce. Perché abbiamo, da una parte, Dumfries contro Gosens, dall'altra abbiamo Di Marco contro Zappacosta. Ecco, sono quattro giocatori che, se ce l'avete nelle vostre rose, dovete schierarli. Secondo me, tra Dumfries e Gosens, ha un plus in più Gosens, ovviamente, e Di Marco e Zappacosta. Sono lì, forse... Di Marco? Dai. Però, comunque, schierabili tutti e quattro. Schierabile anche Andanovic dell'Inter per cercare, quindi, il clean sheet. I bonus possono arrivare dai piedi di Celanoglu, da Dzeko e Martinez. I voti buoni da tutti e tre i difensori centrali dell'Inter, quindi Bastoni, Skriniar, De Vrij. Così anche Barella si può schierare, occhi e cartellini, ma se ce l'avete lo schierate senza problemi. Per quanto riguarda l'Atalanta, quindi, andrei a schierare solo i giocatori che potrebbero portare un bonus. Quindi, i tre più offensivi, che sono Pasalic, Malinowski e Zappata. Tutti gli altri andrei ad evitare. Oddio, Froiler che ritorna titolare. Si può schierare, potrebbe portare un 6, un 6,5, però i cartellini possono dirla loro. Quindi, occhi ben aperti, schieriamo i giocatori da bonus e speriamo bene. Proseguiamo questo cammino in questa sesta giornata di Serie A per andare a parlare di Genua-Verona. Io guardo qui ogni tanto perché ho il monitor del PC, forse dagli occhiali si vede. Ho scritto gli appunti. Quindi, così. Genua-Verona, dicevo. Due squadre che stanno subendo e subiscono, in generale, tanti gol. Quindi, stiamo attenti soprattutto sui portieri, per quanto riguarda i portieri. Forse andrei a schierare più Sirigu che Montipò, visto che gioca in casa. Prevedo un pareggione, prevedo un 1-1, anche un 2-2 addirittura, tra queste due squadre. Quindi, andiamo a schierare tutti i giocatori da bonus. Quindi, Criscito, Cambiaso, Destro e Pandev per quanto riguarda il Genua. Per quanto riguarda il Verona, schierabili Barak, Caprari, Kalinic e occhio Lazovic, che potrebbe trovare un gol dell'ex. Io mi sento questo gol di Lazovic, ve lo dico. Quindi, schierabile Lazovic. Chiudiamo la parentesi Genua-Verona per proseguire con Juve-Sampdoria. Anche qua, partita molto delicata per quanto riguarda i bianconeri. Hanno vinto, ma non convinto, l'ultima giornata. E qua bisogna vincere. Bisogna vincere perché darà morale alla squadra. Se non arrivano i tre punti, veramente dopo si potrebbe entrare in un momento di crisi ancora più di prima. Quindi, secondo me, ragazzi, la Juve deve vincere e secondo me vincerà. Pronostico 2-0, 2-1 a favore dei bianconeri. Perin, che dovrebbe partire titolare schierabile, potrebbe portarvi anche il clean sheet, quindi il più uno se ce l'avete. Potrebbe subire forse un gol, ma schierabile perin. I bonus me li aspetto ovviamente da Ken, da Quadrado, qualche assist o qualche taglio dei suoi. E, a sorpresa, ma neanche tanto, un bonus da Bonucci sul calcio d'angolo ci potrebbe stare. Quindi, i bonus me li aspetto da questi tre giocatori. Per quanto riguarda i voti alti, i voti positivi della Juve, me li aspetto da Delict, da Locatelli e da Morata. Morata ero indeciso se metterlo tra i bonus e tre voti alti. Alla fine ho messo tre voti alti. Vedremo come andrà. Della Samp, quindi evitiamo un po' tutti. Io sono un fan di Augello, ma stavolta qua la vedo un po' dura, quindi non lo andrei a schierare. E schiererei piuttosto gli Evergreen, Candreva, che in un stato di grazia, Caputo e Quagliarella. Gli altri lascerai stare. Ovviamente Caputo e Quagliarella solo da ultimissimi slot, se non avete altre soluzioni, ragazzi. Mettete, Quagliarella e Caputo. Passiamo a Udinese-Fiorentina. Partita che la vedo un po' equilibrata. Potrebbe finire 1-1 o anche una vittoria di misura della Fiorentina fuori casa Udine. Quindi Dragoschi leggermente lo preferisco a Silvestri. Dell'Udinese metterei i giocatori da bonus, quindi Pereira che tira i rigori. E Larsen che lì potrebbe dire la sua sulla fascia di Odriozola. Quindi magari qualche assist, qualche bonus inaspettato potrebbe portarvelo. I giocatori da voto eviterei un po', sia per quanto riguarda il centrocampo, ma anche la difesa lasciare stare. Piuttosto andrei a schierare come scommessina Soppi, che abbiamo visto l'ultima giornata. Ha sorpreso tutti. Dovrebbe partita titolare al posto di Molina. Se ce l'avete nella vostra rosa, buttatelo lì, che magari si può ripetere per poi scomparire tutto il resto dell'anno. Questa è un po' la previsione. Della Fiorentina, quindi oltre Dragoschi, i bonus me li aspetto da Buonaventura e ovviamente da Vlaovic. Bisogna schierare. Su Calleon sono indeciso e sempre un po' agrodolce Calleon. Se ce l'avete comunque schierabile. I voti alti assolutamente da Milenkovic e Biraghi. Anche Martinez Quarta. Non si possono schierare senza problemi. Occhio a centrocampo con Duncan, Avezzo e Cartellini, Torreira. Anche lui potrebbe trovare un po' di difficoltà. Potrebbe essere una gara molto maschia per quanto riguarda i centrocampisti di entrambe le squadre. Andiamo avanti. Scorro un po' giù col Maus. E parleremo di Sassuolo-Salernitana. Secondo me questa partita è a senso unico per i Neroverdi. Quindi prevedo un 3-0 o un 3-1 per il Sassuolo. Consigli schierabile per cercare Clean Sheet. Bisogna schierare tutti i giocatori da bonus e quindi più offensivi del Sassuolo. Quindi Diuricic, Boga, Raspadori e Berardi. Schierabili. I bonus potrebbero arrivare dai piedi di questi 4 giocatori. Così schierabili anche Fratesi e Ferrari per quanto riguarda i voti buoni. Fratesi, buona scommessina ragazzi. Quindi a me piace tanto il suo giocatore. Io ce l'ho al Fandacalcio. Lo schierò sempre perché proprio mi piace e aspetto questo bonus. Chissà che magari ce lo porta in questa partita. Della Sassuolo-Salernitana evitiamo come detto prima a tutti. Se avete Ribéry si può schierare. Se avete Simi si può schierare. Ma ripeto per l'esima volta solo se non avete altre soluzioni. Questo è quanto. Empoli-Bologna. Ecco. Gara secondo me molto particolare. Perché potrebbe essere una gara dove i protagonisti siano i cartellini, i falli, un gioco maschio. E chissà, secondo me anche qualche rigore. Appunto per questo andiamo a schierare i rigoristi di entrambe le squadre. Mancuno da una parte, Soriano dall'altra. Si schierano. I bonus, altri bonus, me li posso aspettare da Bayrami dell'Empoli e Orsolini Arnautovic del Bologna. Quindi, essendo una gara molto maschia, secondo me molto bloccata, potrebbe finire anche in un pareggio 1-1. Una vittoria di misura del Bologna. Andiamo comunque ad evitare i difensori di entrambe le squadre. Come portiere andrei a schierare più Skorupski di Vicario, ma anche qua non dormirei i sogni tranquilli con uno Skorupski in porta. Passiamo al derby. Lazio-Roma. Ecco. Questa è una partita, secondo me, a mio parere, impronosticabile. Storicamente finisce con tanti gol. Quindi pure qua mi tocca essere ripetitivo ancora una volta. E andiamo a schierare tutti i big, tutti i top, tutti i portatori di bonus delle due squadre. Quindi, Immobile, Milinkovic Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson e l'ex Pedro, per quanto riguarda la Lazio. Quindi ex Pedro, sottolineiamo. Io sono fan del gol dei Lex. Per quanto riguarda la Roma, invece, Abraham, Zaniolo, Mkhitaryan, Veretut e del Sharawi, che dovrebbe partire a titolare. E mi sento che potrebbe portare una gioia. Quindi occhio pure ad El Sharawi. Ripeto, pronostico non lo andrei ad azzardare. Può finire con la vittoria della Lazio, con la vittoria della Roma, con un parigione. Quindi fate voi a sentimento. Ma tutti i big che avete di entrambe le squadre vanno schierati senza dubbio. Penultima gara. Parliamo quindi di una squadra che è in uno stato di forma eccezionale. Parliamo del Napoli. Che affronterà il Cagliari. Anche qua, gara, secondo me, a senso unico a favore del Napoli. Però, secondo me, un gol stavolta può subirlo in Napoli. Quindi prevedo un 2-1, 3-1, abbastanza tranquillo. Quindi Ospina schierabile. Subirà un gol, secondo me. Però si può schierare per un voto alto. Così come di Lorenzo e Koulibaly e anche Anguissa per un voto alto. E i bonus me li aspetto da giocatori offensivi. Quindi Insigne, Osimian, Politano e Zelisky. Del Cagliari andrei a schierare, ovviamente, Joao Pedro. Si schiera sempre. E se volete una scommessina, tra virgolette scommessina, potrebbe essere Nandez. Chiudiamo questo video parlando di Venezia-Torino. Secondo me, gara anche qui abbastanza a senso unico. Con una vittoria tranquilla del Torino, fuori casa. Per 0-1, 0-2. Torino è una squadra che sta subendo pochi gol, grazie al gioco difensivista di Juric. Quindi Milinkovic-Savic, portiere del Torino, da schierare. Io lo schiererò, ce l'ho. Per cercare appunto i clean sheet. I bonfros me li aspetto dai piedi di Brecalo e Sanabria. E anche piazza da subentrato, come ha fatto quest'ultima giornata. È uno stato di forma, anche lui, pazzesco. Quindi bisogna schierare piazza. I voti alti me li aspetto da Bremer, Singo e Pobega. Per quanto riguarda il Venezia, poca roba. Andrei a schierare Henry, come scommessa. È sempre dall'ultimo slot, sempre, sempre, bla 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 bla. È Aramu che sta cercando questo benedetto primo gol in Serie A. Quindi se ce l'avete schierate anche Aramu. E speriamo bene. Ragazzi, questo video è terminato. Vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo sempre in descrizione tutti i link. Perché su Instagram, vi ripeto ancora una volta, troverete le top 11, top 11 generale, top 11 scommesse, i bonus spazi, il clean sheet sicuro, il goal dell'ex. Tante kick che non voglio spoilerare qua su YouTube, ma le troverete solamente su Instagram e sul nostro gruppo Telegram. Perché ricordatevi che il fantacalcio non è un gioco, ma uno stile di vita. Ciao! Ciao!